Ho conosciuto Clara Sereni come vice sindaco di Perugia, una personalità significativa per la sua storia, per quello che lei ha rappresentato per la nostra città e quindi ringrazio le organizzatrici del premio Clara Sereni. Mi fa piacere sapere che il 25 aprile verranno presentati i cinque finalisti, quindi una data particolare per un personaggio particolare.